Ci ha stupito in Chiamatemi Joe, in My Camp Rock 2, e partecipando a Ballando con le stelle, Sara Santostasi ha dimostrato di essere una grande ballerina. E ora va a tutto ritmo per insegnarvi lo stile di Sisi e Rocky. A tutto ritmo Dance Time. Ehi ragazzi, conoscete il posto della sfinge? No? Allora ve lo insegniamo noi. Adesso lo facciamo una volta tutti insieme per vedere come viene. E poi lo studiamo su 2-4. Siete pronti? 7-8 1-2-3 E qua 5-6-7-8 Perfetto, adesso lo facciamo piano piano. 1-2 Quindi mentre apro la gamba si apre anche il braccio. Lo faccio anche dall'altra parte. Facciamo di nuovo. 1-2 Poi faccio chiudo, apro, chiudo. E le braccia seguono da qui. Chiudo, apro, chiudo. Di nuovo. 1-2-3-4 Perfetto, possiamo andare avanti. 5-5 Vengo avanti e le braccia si sfiorano. 6-chiudo. 7-faccio un'onda. E 8-chiudo. Facciamo di nuovo. 5-6-onda-7-chiudo-8 Bene, proviamo a farlo ancora piano piano, però tutto insieme. 7-8 7-8 1-2-3 E qua 5-6-onda-7-8 Perfetto, andiamo un pochino più veloce. Velocità media. 7-8 1-2-3 E qua 5-6-7-8 Bravi! Possiamo velocizzare ancora un po', no? 7-8 1-2-3 E qua 5-6-7-8 Bravissimi! Adesso sappiamo fare tutto il passo della spinge! Seguite la programmazione per imparare altri passi. E mi raccomando, allenatevi, eh! Perché a settembre toccherà a voi andare a tutto ritmo come Sissi e RockyCon. A tutto ritmo Dance Time! Da settembre, sulla Disney Channel. Grazie a tutti! Grazie a tutti!